salve sono paolo borzi solo di roma ho 61 anni viva ostia e io purtroppo con due gatti che mi accudiscono e che devo fare la vita è così sono diplomato ho visto gli stati uniti per tre anni ho fatto un po di college ho fatto anche qualche provino per vari spot ho fatto scuola e teatro qui per un paio di mesi a testaccio e posso dire mi piace mi sono divertito tanto cerco e vorrei fare qualcosa di più però non sempre va per verso giusto spero di incontrarci presto magari ciao